Niente da fare, il Tabucalise resiste, il Manfredonia espugna lo stadio di Forio e conquista la seconda vittoria stagionale, giallo-blu invece ancora secco di successi sul proprio campo. Nel primo tempo al nono, Mischia in area ospite, Favetta esplode il sinistro, ma un difensore ribatte da breve distanza. Quattro minuti dopo, Talamo ci prova di testa su cross dalla parte opposta, ma Safri fa buona guardia. Prima occasione per il Manfredonia al minuto 14, quando Coppola di testa da sottomisura impegna Gemito. Occasione si pontina al minuto 33, traversone di Carbonaro e colpo di testa di Scaringella che non trova lo specchio della porta. L'Ischia non riesce a trovare sbocchi, ma al quarantesimo Castagna riesce a sfondare sulla destra, cross in area per Desiato che controlla e calcia di sinistro, pallone fuori. In avvia di ripresa, subito Ischia in avanti, Favetta servito centralmente, grandestro in drop e respinta in tuffo di Sapri. Al terzo, Talamo dalla distanza serve in mezzo per Favetta che tutto solo sfiora il pallone che sfila. Al dodicesimo, Manfredonia in vantaggio sugli sviluppi di palla inattiva, Gemito riesce a respingere una prima conclusione, ma non la seconda dell'Ischitano Castaldi, sì, proprio lui che da sottomisura scarica in rete. Al ventitresimo, Forte si immola su tiro a botta sicura di Trofa, salvando il risultato. Due minuti dopo, svolta del match. Ischia in dieci per l'espulsione del portiere Gemito, uscito dai pali per fermare un contropiede di Porzio. Entra Zandri al posto di Pellino. Il calcio piazzato di Giacobbe beffa il neo entrato portiere. Al trentaduesimo, bravo Sapri sul tiro cross di Florio. I gialloblu spingono, ma il Manfredonia tiene. Al quarantaquattresimo, Castagna pulisce un buon pallone e conclude di poco sul fondo. Nel secondo minuto di recupero, ancora Favetta, servito da Florio, da due passi, non riesce a superare il portiere che respinge. Dopo sei di recupero, game over al Calise.